Un prestigioso riconoscimento è arrivato a Bibione. Il Bibione Palace Suite Hotel ha ricevuto il premio come uno dei 100 hotel più votati dai clienti TUI, Touristic Union International. La TUI è una delle agenzie turistiche più grandi al mondo, leader del settore viaggi e turismo, che conta 3.600 agenzie di viaggi, 37 agenzie incoming, 84 marche organizzative. Si tratta di una segnalazione fatta attraverso siti internet della TUI dagli stessi turisti che hanno soggiornato nell'elegante albergo fronte mare. Nei commenti sono state evidenziate alcune importanti caratteristiche che hanno reso indimenticabile la loro vacanza, quali l'organizzazione, la qualità dei servizi offerti, la gentilezza del personale, la varietà di attività offerte e l'attenzione generale, a partire dai proprietari. Alla cerimonia di premiazione avvenuta al Bibione Palace Suite Hotel hanno partecipato alcune rappresentative personalità della TUI. Robin Wilberts, capo Dipartimento Italia-Francia Benelux. Frank Trautman, responsabile prodotto Venezia Garda Liguria. Gianni Perini, agente TUI VCE Nord Adriatico. Kerstin Deszo, resident manager nord-adriatico. Irena Kukovic, assistente destination manager. Anja Nissen, responsabile call center TUI Italia.